Buongiorno, siamo in collegamento con Marco Campione, esperto di politiche scolastiche, Mauro Piras, docente di storia e filosofia al liceo Castelnuovo di Firenze. Con loro parliamo di un appello lanciato proprio in questi giorni da Condorcet, ripensare la scuola. Intanto spieghiamo una cosa Marco Campione, Condorcet, ripensare la scuola, chi è, che cos'è? Sì, intanto grazie e saluto tutti i nostri ascoltatori. Condorcet è un gruppo di persone che si occupano di scuola a vario titolo, molti docenti, molti dirigenti, persone che come me fanno per la propria professione lo studio delle politiche pubbliche. È nato un paio anni fa nel 2018 e direi che la motivazione principale della sua nascita è quella di ripensare la scuola, provare a pensare una scuola, una scuola diversa. Ecco abbiamo capito chi, che cosa è il gruppo Condorcet, ripensare la scuola, ma adesso veniamo alla domanda iniziale, cioè voi avete predisposto un appello. Mauro Pira, se ci vuoi dire rapidamente in che cosa consiste questo appello, ci sono tre hashtag, nuovo calendario, tempo per la scuola, ripensare la scuola. Ecco, illustraci un attimo a grandi linee l'appello, poi entriamo più nel merito dei singoli problemi. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito a questa discussione. Dunque, l'appello, la nostra proposta in realtà è molto semplice. L'idea è questa, a causa della pandemia la scuola ha subito numerose interruzioni della didattica in presenza, ha subito un'interruzione del trimestre, diciamo finale, dello scorso anno scolastico e all'inizio di quest'anno, anche bruscamente in anticipo rispetto a quanto ci aspettavamo, abbiamo perso degli altri giorni, nelle maniere che tutti conosciamo, quindi il quadro è anche un po' differenziato perché alcune regioni hanno chiuso prima, alcune regioni hanno chiuso anche il primo ciclo e così via. Sappiamo quindi che abbiamo perso molto tempo scuola in presenza e dato che l'emergenza si prolunga e rischiamo forse di avere altre interruzioni. Tra parentesi, in questo momento non sappiamo neanche quando torneremo a scuola per questo periodo preciso di interruzione, se sarà prima di Natale o dopo Natale. Bene, in questo quadro di incertezza abbiamo pensato a una situazione di emergenza, rispondiamo con una soluzione di emergenza, cioè modificando la nostra idea del calendario scolastico, la nostra vuol dire l'idea che è sempre stata adottata in Italia per tradizione e per legge. Quindi l'idea è questa, noi potremmo recuperare dei giorni di lezioni in presenza allungando il calendario scolastico verso giugno, dopo la canonica fine dell'anno scolastico circa giugno, circa intorno al 10 giugno, invece mandarlo un po' più in là, e recuperando magari anche degli altri giorni intorno alle vacanze canoniche, ma pensando che si possono fare delle brevi interruzioni in altri momenti per tirare un po' il respiro. Tra parentesi, siccome la DAD è molto faticosa e stressante anche psicologicamente, sia per gli studenti che per i docenti, una proposta potrebbe essere quando siamo condannati alla dinattica a distanza, pensare a qualche periodo di interruzione, di vacanza, e poi recuperare quei giorni quando la situazione è più sicura e possiamo lavorare in presenza. Ecco, la proposta è semplicemente questa. Ecco Mauro e Marco, vi faccio subito però una domanda. Qualcuno sostiene che dal vostro appello sembra quasi emergere l'idea che la didattica a distanza è stata un po' tempo perso, cioè si è sprecato del tempo. Voi cosa ne pensate? Ritenete che effettivamente la DAD sia tempo perso, sia tempo sprecato? Chiariamo subito cosa non siamo, cosa non vogliamo. Noi non siamo avversari della DAD. Semplicemente partiamo dal presupposto, è una cosa che peraltro personalmente dico da marzo, anche Mauro, insomma dicevamo in tanti per fortuna, ma non abbastanza, che la DAD, la didattica a distanza, la didattica in presenza sono due cose diverse, che hanno peculiarità diverse e anzi funzionano se sono integrate, come giustamente il Ministero ha detto, però purtroppo quasi esclusivamente nei documenti, poi non sempre ci sono state conseguenze rispetto a questo. Quindi sono due cose diverse e quindi non possiamo far finta di non vedere che la didattica a distanza, parliamo delle superiori, comunque è solo un pezzo e quindi se per esempio da marzo a giugno non si è fatto neanche un giorno di didattica in presenza, è evidente che poter recuperare invece dei tempi in presenza sarebbe stato utile. Aggiungo per i bambini il discorso è ancora completamente diverso, ieri è arrivato per esempio un appello della società italiana di pediatria in cui spiega quali possono essere i danni della mancata socializzazione per i bambini, dello stare a casa e di non vedere, e di vedere al massimo l'amichetto se la scuola è chiuda e non invece tutto il gruppo classe. Quindi attenzione, la scuola non è una cosa sola, per loro recuperare del tempo in presenza ha anche questa valenza qui e non vuol dire attaccare la DAD, ribadire che la didattica in presenza ha una sua peculiarità che va a recuperare, perché è persa. Per usare il termine usato dalla società italiana in pediatria un bambino di sei anni non avrà mai più sei anni e questa cosa non possiamo fare finta di non vederla. O io la scuola gliela restituisco adesso appena avrò quegli spazi che Mauro ricordava prima, oppure non la ritroverà mai più. Quindi credo di aver risposto. Aggiungo una cosa come risposta, riprendo la stessa idea di Marco. La didattica a distanza e la didattica in presenza sono due cose diverse. Come ha detto molto bene una collega del nostro gruppo, che è molto esperta fra l'altro di didattica a distanza, sono due ambienti di apprendimento diversi. La scuola dei paesi occidentali, per come è strutturata, è una scuola della didattica in presenza. Fondamentalmente la sua struttura è questa. È evidente che abbiamo adottato la didattica a distanza per l'emergenza, è evidente, aggiungo e sottolineo, che secondo me e secondo molti di noi la didattica digitale integrata, cioè integrare digitale alla didattica in presenza, integrare in qualche maniera i due ambienti anche nella vita ordinaria è un obiettivo verso cui dobbiamo andare. Noi l'abbiamo detto, l'abbiamo difeso e per questo siamo stati anche attaccati. Ma strutturalmente la scuola è quell'ambiente di apprendimento che si fa, che si svolge in presenza. E quindi quando perdiamo quello, la didattica a distanza compensa solo in parte. Siccome compensa solo in parte, noi la difendiamo, la promuoviamo, continueremo a farlo, ma vogliamo dire attenzione, rischiamo di stressarci tantissimo, lavorare tantissimo per ottenere un prodotto minore. Lo dico un po' crudamente. Dico anche un po' crudamente che c'è un problema di produttività marginale qui, cioè tanto lavoro, tanta attività che si prolunga per tre settimane. Dopo un po' è meno efficace. Vorrei aggiungere solo una cosa, chiosando le cose che ha detto Mauro poco fa, aggiungerne una rispetto a ciò che non siamo. L'appello, forse per concomitanza temporale, alcuni lo hanno confuso come un appello a riaprire il 9 dicembre, a schierarci per riaprire prima di Natale. Non è questo. Alcuni di noi pensano che sia meglio riaprire prima, alcuni di noi pensano che sia meglio aspettare dopo. Questo tema non riguarda l'appello, riguarda un'altra cosa che si apre il 9 dicembre o si apre il 9 gennaio. Comunque il nostro ragionamento non cambia. Questa è la prima cosa. E poi aggiungo un elemento che secondo me è importante. Quasi, se volete, prendila come una provocazione. È molto più un appello per la didattica digitale integrata e quindi a favore di una modalità anche a distanza. Un appello come il nostro, che prende atto delle differenze di cui abbiamo parlato, rispetto a chi invece fa una difesa acritica e quasi ideologica dello stare a distanza. Perché fanno gli stessi danni, pure inconsapevolmente, di quelli che invece ti dicono che non è vera scuola quella a distanza. Sono due estremi che in realtà raggiungono lo stesso obiettivo. Non realizzare la didattica integrata, che se parliamo di cosa succederà dopo l'emergenza, deve essere il nostro obiettivo. Perché quella è una scuola che veramente tiene conto dell'innovazione che c'è stata e anche delle diverse modalità di apprendimento dei ragazzi di oggi. Ma sarebbe un discorso che ovviamente dovremmo approfondire in altra sede, diciamo. Però ci tengo molto perché è molto importante che noi tutte le cose che diciamo oggi sull'emergenza, le pensiamo anche in riferimento a quello che potrà succedere dopo che l'emergenza sarà finita. C'è un aspetto del vostro appello che può sembrare abbastanza critico, molti ritengono che sia critico, ed è la questione dell'andare oltre il 10 giugno con il calendario scolastico. L'Italia, come si dice, è larga ma soprattutto lunga e quello che può andare bene nel mese di giugno a Gorizia magari non va altrettanto bene in altre aree del territorio nazionale come la Calabria, la Sicilia o la Puglia. Questa è un'obiezione tutto sommato abbastanza consistente. Che cosa possiamo dire su questo, Mauro? Sì, dunque, io ho due tentativi di risposta. Il primo è che siamo in un'emergenza e quindi in un'emergenza bisogna trovare soluzioni di emergenza e capire che le soluzioni di emergenza hanno dei costi, ma i costi dipendono dal fatto che l'emergenza ha alzato i costi di tutto. Così come appunto è un costo chiudere un ristorante e poi aiutarlo solo con dei sussidi, è un costo anche dover lavorare al caldo, eccetera. Questa è la prima risposta legata all'emergenza. Poi una seconda risposta. Dobbiamo comparare situazioni comparabili. Ho guardato alcuni calendari scolastici europei. La Spagna inizia la scuola più o meno come noi, cioè intorno a metà settembre, ma nelle diverse regioni spagnole, le generalità, la scuola finisce tra il 18 e il 25 giugno. Ora, molti di voi forse sono stati in Andalusia e sanno cosa significa a giugno avere 40 gradi, 50 gradi per le strade della città. La Francia anche è comparabile perché è vero che la Francia del nord è più vicina ai paesi del nord, ma la Francia del sud è molto più vicina ad alcune altre nostre regioni. La Francia, sappiamo che è un calendario diversissimo, iniziano il primo settembre e finiscono a fine giugno, inizio luglio, fanno più interruzioni in mezzo. Ora, noi in realtà facciamo delle proposte intanto legate all'emergenza, poi sulle idee generali si vedrà, ma nell'emergenza la proposta non è esagerata. Per esempio, recuperiamo un paio di settimane dopo il 10. Non è una cosa, un prolungamento così forte. E poi l'andamento del clima, se ci abbiamo fatto caso ultimamente, l'andamento del clima tra maggio e luglio ultimamente è molto ondivago. Abbiamo avuto dei mesi di maggio lavorando a scuola assiduamente, che erano tropicali come i mesi di luglio di una volta. Poi a giugno rinfrescava, poi di nuovo grande caldo, intollerabile durante la maturità. Va bene, sono cose più o meno imprevedibili. Non penso che possiamo legare questa cosa al clima. Il vostro appello è stato lanciato, promosso da Condorcet, ma anche da personaggi molto importanti del mondo accademico, del mondo della cultura, del mondo scientifico. Ecco qui c'è l'elenco di coloro che lo hanno sottoscritto per primi. Come la leggete questa adesione all'appello da parte anche del mondo scientifico, del mondo culturale, del mondo accademico? Ma guarda, io velocemente, tanto come hai citato c'è Roberto Maragliano, quindi a proposito della cosa di cui parlavamo prima, cioè accusarlo di essere contro la didattica a distanza mi sembra scopreale. Giancarlo Cerini, c'è un pezzo di mondo pedagogico che è molto significativo e poi delle personalità, del calibro di Cottarelli, Ventivogli, Liecittà e Tuga, Vostro, insomma non li ripeto. Questo è un tema secondo me molto sentito e lascia vedere l'obiettivo di Condorcet è proprio questo, cercare di stimolare non solo la scuola ma tutto il mondo intellettuale che si interessa di scuola per rimettere la scuola al centro, perché davvero... Bene, grazie a Mauro Piras, grazie a Marco Campione, auguri per il vostro appello, ma direi soprattutto auguri alla scuola italiana che possa uscire al più presto da questa situazione di emergenza e soprattutto che possa, come dire, ritornare ad essere una scuola di tutti e per tutti. Buon lavoro! Grazie! 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 Grazie!